Eccoci, buongiorno a tutti, siamo al venerdì 26 con un allenamento, non solo perché andrò a inserire anche qualche attività insieme del tipo magari addome e anche gambe. Adesso vediamo un po' cosa vi introduco. Spero che mi sentiate, nel senso che ho sempre ancora qualche problemino con l'audio del PC, cercherò di parlare un po' più forte, eventualmente di oggi comunque porterò ad aggiustare, quindi spero di risolverli. Saluto tutti, soprattutto quelli che fanno in differita, iniziamo con il riscaldamento. Muoviamo piede, andiamo a step touch. Intanto magari se siete un po' infreddoliti andate anche a massaggiare le braccia. Sono tempi da neve, ogni un po' più freddo fa. Ok, andiamo a fare calciate i glutei. E andiamo a sollevare le gambe in skip. Di nuovo step touch e spinta in avanti da ferme le gambe. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Aspettacce, sciogliamo. Andiamo, andiamo a lavorare sul tronco, anche addome e andiamo ad alzare lateralmente il ginocchio. Uno, facciamolo dallo stesso lato. Due, tre, cerchiamo di andare bene su quella gamba. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sciogliamo un po' in spettaccia e passiamo dall'altro lato. Ok, andiamo ad alzare lateralmente il ginocchio. Ok, discesa laterale. Uno, due, tre, quattro, cinque, su. Dell'altra, uno, due, tre, quattro, cinque, su. Rotazione del busto. Uno, torno, dall'altra. Torno, torno, ancora, torno, e ancora, torno. Bene. Bene. Torno. Discesa laterale. Uno, due, tre, quattro, cinque, su. Uno, due, tre, quattro, cinque, su. Rotazione delle spalle avanti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Proseguiamo sempre a stessa direzione. Braccia. Due, tre, quattro, cinque. Spinta del gomito, delle braccia in avanti. Attezza gomito, spalla. Tre, quattro, cinque. Rotazione, altro lato. e uno, due, tre, quattro, cinque. Spingo in avanti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque. Portiamo in alto le braccia piegate 90, gomito, spalla. E andiamo a chiudere, aprire. Stesso punto di apertura. Salgo verso l'alto. Rimaniamo alti e ruotiamo in giù. Ok. Scendo. Riposo. E con la rotazione. Ancora mezzo in rotazione. Due. E... Ok. Bene. Partiamo con l'attività vera e propria. E facciamo un tabata di quattro minuti dove ripetiamo gli esercizi. Saranno quattro, due volte. Facciamo un crunch utilizzando anche i pesetti. Così fruttiamo bene anche già i bicipiti e comunque facciamo lavorare le braccia. Faremo dei crunch plastici con il pesetto. Quindi vado su portando il peso in avanti, eventualmente, lo teniamo già in avanti. Venti secondi, dieci secondi di recupero. Poi faremo un passaggio del peso sotto la gamba, quindi con gambe a 90 gradi, alzate a 90 gradi. Un sit up dove veniamo proprio a portare il peso davanti alle ginocchia. E poi andiamo a fare un crunch, un cross, praticamente, alzando un lato, portando un braccio in avanti. L'altro lo teniamo sulla pancia, quindi alziamo, incrociando. E poi, questa seconda volta, facciamo dall'altra. Quindi ripetiamo gli esercizi due volte, tranne l'ultimo, che fa un lato per l'altro. Venti secondi. Ci mettiamo giù, prendiamo pure un peso. E' più semplice. Dici secondi. Mettiamoci in posizione crunch. Pizziamo in avanti, così spingiamo solo, semplicemente su. Halftway there. Ok. Recuperiamo dieci secondi e rifacciamo lo stesso esercizio, ok? Let's go. Via. Ok. Bene, su, uno, due, tre, in discesa. Uno, due, tre, in discesa. Halfway there. Ok. Andiamo. Dieci secondi di recupero, portiamo le gambe a 90 e facciamo passare il peso sotto, ok? Let's go. Via. 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 Salgo scendo, salgo scendo, ho cambiato il giro, halfway there, ok, andiamo a fare il sit up, se qualcuno di voi ha difficoltà, mi fa un trance, portiamo il peso dietro la testa e vengo su, let's go, Sludo e scendo, Sludo e scendo, halfway there, ok, adesso 10 secondi e ripetiamo l'esercizio, Sludo e scendo, halfway there, ok, 10 secondi e andiamo a lavorare col crunch, Laterale, quindi cross, finger, scendo, finger, scendo, da un lato, finger, incrocio, scendo, Mado verso il ginocchio, opposto, allungo il cipite, ok, facciamo dall'altra parte, bene il peso sulla spalla, andiamo al ginocchio opposto, Spingo e ritorno, sollevo la schiena, halfway there, ok, molto bene, recuperiamo un attimo, Nel frattempo, andiamo a lavorare, io vi preparo, intanto che vi riposate, bevete, preparo un allenamento 40-20, in questo caso, Quindi abbiamo 20 secondi di recupero, ma 40 di lavoro, dove andiamo a utilizzare sia le braccia che le gambe, Quindi andiamo, vi faccio vedere l'abbinamento come sarà, una, affondo, quindi due pesetti, andiamo a fare un affondo indietro, gamba destra, mentre scendiamo e stendiamo le braccia verso l'alto, quindi uno e scendo, quindi lavoro di braccia, Facciamo scendiamo anche di gambe, facciamo solo la destra, in distensione, poi recuperiamo e proseguiamo. Facciamo di nuovo giù, per fare allenamento di nuovo. Allora, andiamo? Pronti per partire? Allora, andiamo? Pronti per partire? Lavoriamo solo con la dama destra, eh? Ok. Ok. Pond, porto su le braccia col peso, sollecitiamo, braccia, gambe, domi. Un'altra parte? Un'altra parte? Un'altra parte? Un'altra parte? Ok, 20 secondi, un peso solo, andiamo di nuovo a lavorare con un crunch laterale, quindi appoggiamo bene il pesetto qui sulla spalla e spingiamo sul ginocchio opposto. Vado, torno, vado, torno, lavoriamo 40 secondi, sollevo e spingo, sollevo una parte del corpo, e spingo, ok, ci alziamo di nuovo i piedi e lavoriamo con la gamba sinistra e spingiamo il braccio in mano. Ok, scendo e dispendo, mi salgo, lavoriamo anche bene con gli epsom, dai, si lo sviluppiamo per fare bene il sito. Braccia in alto. Ok, andiamo di nuovo giù con un peso solo, andiamo a far lavorare l'altro braccio. e parte dell'addome laterale, ok? Bene, nella posizione. Let's go. Secondo. Ok. Ok. Molto bene. Bene, proseguiamo adesso, andando a fare un lavoro con tutti i pesetti, facciamo un thruster, quindi misto, bene, i pesi qui, scendiamo giù in squat e facciamo l'esplosione verso l'alto, ok? Ok. 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 Andiamo a fare un affondo stretto, sempre con le stensioni delle braccia, quindi facciamo un affondo sempre con le stensioni delle braccia, quindi facciamo un affondo sempre con le stensioni delle braccia. Ok. 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 That's the firstți leggeri del genere stanno. Ok. 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 Seconds. Rest. Ok. Andiamo. Usate pure il pesce. Io ritengo il mano ma usatevi per riposare. All'altra parte. Sento che c'è un… Guardate che sistemo solo l'audio che… Ok. Perfetto. Allora, dicevamo, facciamo dall'altro lato. Let's go. Conti, apertura e scendo. Sempre in stessa posizione. La mantengo, palco. Silvano. Halfway there. Ok. Silvano. Io ten. 10 secondi. Bene. Adesso alterniamo con un peso solo, quindi lavoriamo prima con la destra e poi con la sinistra, scendendo giù, toccando terra col peso, spingendo verso l'alto, ok? Scegno, salgo, scendo, piego le ginocchia, salgo, manteniamo la schiena sempre, regolare, spingendo, tommo, half way there, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, andiamo a lavorare dall'altra parte, ok? Siamo pronti? Ok. Stendo, bene, regolare la schiena. Ok. Sopra, sì, prego, stiamo. Ok, molto bene, adesso andiamo a sciogliere un po' tutto e facciamo dei jumping jacks. Potete farli o camminando oppure saltellando, ok? Scriviamo bene, braccia e gambe. Ok, benissimo, recuperiamo e passiamo. Un po' di lavoro un pochino più muscolare, più specifico braccia, quindi due pesetti. Andiamo a lavorare. Come classico ormai di tradizione del venerdì e andiamo a fare un lavoro di bicipiti, tricipiti e via discorrendo. Ok, allora ripartiamo con il nostro contatore, prendiamo due pesetti e andiamo a fare i bicipiti alternati, senza rotazione del polso. Lavoriamo sempre 40 secondi, bene il movimento, cerchiamo di evitare di muovere molto il tronco, ma cerchiamo di lavorare sulle braccia. Fate bene il movimento, cercando di tenere le braccia vicino al corpo. 10 secondi. 10 secondi. Ok, recuperiamo e andiamo a fare invece un alternato, quindi con rotazione del polso, bicipiti alternato, ok? Qualche secondo, recuperiamo i pesi e andiamo. 5 secondi, bene l'addome contratto, l'addome ci aiuta anche nelle alzate, se lo tratteniamo bene. Se avete bisogno di regolare la respirazione, sempre sotto sforzo, tutto fuori. Ok. 10 secondi. Rest. Ok, recuperiamo ancora qualche secondo. E poi andiamo a fare invece bicipiti indietro, quindi partiamo in questo modo. A 45, spingo indietro. Abbiamo pure i pesetti. Alla prossima. 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 10 secondi di recupero e ritorniamo su di cittadini ritorniamo in avanti e andiamo a fare un'alzata, incrocio, incrocio, alzata, rialzata, rialzata, bene, spingo, spingo, spingo ok, sempre 20 secondi, continuiamo con le alzate, andiamo a fare le alzate frontali, quindi fino almeno a livello spalla, anche un quello qui su mettiamo i pesi in posizione, iniziate insieme uno e due, uno, bene 10 secondi ok, ritorniamo adesso il precipito dietro la testa, quindi bene il gomito, lo teniamo sotto controllo e spingo su e senza esagerare nella tenuta, solo che non si apra ok, andiamo a prendere il nostro pesetto dietro la schiena e spingiamo verso l'alto ok, allora 10 secondes ok ok recuperiamo il braccio vedete nel frattempo e andiamo a lavorare sull'altro braccio sull'altro precipite ok salgo e scelgo 10 secondes molto bene ultima ok recuperiamo scendiamo giù in appoggia schiena e andiamo a fare l'apertura chiusura croce con due presenti quindi appoggia schiena appoggia con le tera in quattro in quattro in quattro non esistere ma è nata la parte non esistere una volta la parte in quattro sempre conto a terra e spingiamo verso l'alto let's go scudo e scendo spingo verso l'alto e scendo half way there 10 seconds rest ok ultimo andiamo a fare dei principi dietro la schiena quindi partiamo dall'alto e spingiamo dietro i due perfetti ok dietro la testa ultimo e poi facciamo un po' di stretching let's go ok scendo spingo half way there 10 seconds molto molto bene posiamo i pesetti e andiamo a lavorare facendo una bella distensione del nostro corpo spingo unisco le ginocchia 3 2 1 lungo uovo 3 2 1 unisco le ginocchia 3 2 1 rotazione laterale delle ginocchia 3 2 1 3 2 1 rotazione laterale e mi metto in quadrupedia andiamo ad allungare bene le braccia e la schiena mi appoggio con i talloni 4 5 torno su e mi scendo ancora una volta 1 2 3 4 5 torno su mobilizzazione della colonna bene anche il collo stavo già lavorare l'elena ok passo sui lombari sappiamo i lombari ok porto avanti il piede vicino alla mano e spingo in avanti 5 5 ok torno giù guarda l'alto e spingo bene la mano e ritorno mettiamo il ginocchio andiamo a lavorare le braccia allungo 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 e dall'altra e dall'altra allungo 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 scendo su tricipite stingo bene il gomito vicino alla testa mano aperta dietro sulla schiena 2 1 scendo dall'altra parte bene il gomito vicino alla testa mano aperta 3 2 1 scendo rotazione delle spalle avanti e dall'altra ok molto bene bravissime terminato anche oggi l'allenamento sciogliete un po' andate a far colazione mi raccomando sempre proteica che andiamo a ripristinare la muscolatura mi raccomando tutto posto tutto bene buon weekend a tutti grazie